Questo è uno spazio gestito dalla Zodiac Performance Products for Harley-Davidson e come vedete grande spazio alla fantasia con dei modelli che forse non potrebbero girare sulle nostre strade per problemi di omologazione ma che sicuramente sono curiosi ci domandiamo quanto duro potrebbe essere interprendere un lungo viaggio con una moto come questa è una Harley-Davidson 3x3 del 2009 e proviene da Grosseto questa è del 1993